ciao Agostino buonasera buonasera a tutti ciao Agostino va bene cosa dite cominciamo facciamo come la volta scorsa un piccolo riassunto della puntata precedente prima però pensavo che forse potremmo già aprire adesso con una preghiera cosa dite Alessandro ci sei? sì sì certo va benissimo ok e allora prego io Padre Santo ti vogliamo ringraziare per questo momento che ci regali un momento in cui possiamo essere vicini anche se lontani ancora una volta per indagare la tua parola ancora una volta per indagare la storia per comprendere meglio ti ringraziamo per l'impegno di Caleb e anche per la presenza di tutti i fratelli e le sorelle che sono qui questa sera non possiamo non pensare ai nostri fratelli in Israele fratelli e sorelle che stanno attraversando questo periodo così difficile e terribile ti chiediamo di proteggerli di benedirli di sostenerli ti preghiamo di aprire i loro occhi di far sì che possano volgersi al loro messia Yeshua con un cuore sincero ti preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle arabi che si trovano in questa terra e anche per loro ti chiediamo sostegno ti chiediamo protezione e tutti coloro che ancora vagano nelle tenebre Signore ti chiediamo di aprire i loro occhi e attirarli a te ti preghiamo per i soldati ti preghiamo per gli ostaggi Signore ti preghiamo anche per il governo illumina le loro menti perché possano prendere le decisioni giuste e aiuta la Chiesa che possa veramente avere le idee chiare e possa schierarsi dalla parte giusta dalla tua parte grazie per tutto quello che hai fatto fino ad ora grazie anche per sostenere noi in questa in questa piccola missione che cerchiamo di portare avanti ogni cosa sia secondo la tua volontà Amen 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 Ok allora parlo ancora io stasera ti rubo la scena Caleb Allora la volta scorsa il titolo il punto principale era proprio il periodo intertestamentario e i testi apocrifi e in apertura Caleb ci ha rapidamente esposto alcune notizie su testi antichi fuori da Qumran come la Pescita traduzione in siriaco risalente al secondo secolo dopo Cristo sia dell'antico che del nuovo testamento e la Septuaginta la traduzione in greco iniziata nel secondo secolo avanti Cristo con la traduzione della Torah e poi pian piano tutto il resto la cosa interessante è che i ritrovamenti di Qumran hanno reso comprensibili punti che in queste traduzioni sembravano un po' scuri l'argomento principale comunque della volta scorsa sono stati i testi apocrifi e Caleb ci ha detto che cosa sono la loro importanza nel contesto culturale ebraico in particolare nello studio dei testi che compongono il canone dove li possiamo trovare oggi quando sono stati scritti cosa è stato trovato a Qumran di questi testi ma anche come e dove vengono citati nel Nuovo Testamento per esempio nell'Epistola di Giuda a Tito secondo Timoteo secondo Pietro ed infine anche perché sono stati esclusi dal canone in alcuni casi e in altri casi invece sono stati mantenuti in particolare Caleb ci ha parlato del libro di Enoch non solo del suo contesto del suo contenuto ma l'aspetto più interessante è stata la comparazione dei contenuti del testo enottico con il testo biblico Caleb ha anche introdotto in tutta questa trattazione degli approfondimenti tratti dagli studi di esperti come spero di dire bene i nomi Gesa Vermesh Paolo Secchi e Gabriele Boccaccini che sono degli studiosi laici ma anche di studiosi credenti come Michael Heiser Peter Gentry e Wayne Nunali è stata anche molto interessante la trattazione più ampia sul libro di Daniele in particolare il capitolo 2 e il capitolo 9 e del libro di Daniele Nella Cumram abbiamo copie che possiamo datare con certezza prima di Cristo e dove abbiamo profezie che riguardano sia l'antico che il nuovo testamento con aspetti ancora in fase di adempimento in modo inaspettato abbiamo anche scoperto che il libro di Daniele offre dei legami con i libri apocriti attraverso delle particolarità che Caleb ci ha evidenziato ora non voglio prendere altro tempo ci sono tante altre cose che bisognerebbe ricordare perché è stata una lezione talmente ricca che il consiglio ancora una volta è quello di rivedere la registrazione per interiorizzare questo inseriamento perché vale veramente la pena e quindi ancora una volta grazie Caleb e a te la parola grazie Mirta si sente tutto bene siamo pronti ok allora oggi ci sposteremo invece a parlare dei collegamenti tra Qumran e il Nuovo Testamento ci sarà una breve parentesi che ci allontana da Qumran per poi riavvicinarci la prima cosa che dobbiamo considerare è che abbiamo detto la Bibbia ebraica costituisce una sorta di storia incompiuta è segnata da profezie di un glorioso evento futuro è una sempre più fervida attesa del Messia che avrebbe liberato gli ebrei dall'oppressione abbiamo notato nel periodo intertestamentale invece un periodo di grande instabilità già profetizzato nel libro di Daniele per quanto riguarda il re del nord e il re del sud che vediamo anche nella mappa e continui colpi di scena ma nel parlare di questo forse non è stato evidenziato abbastanza un fattore comune che emerge in questo periodo che Paolo Sacchi e Gabriele Boccaccini sottolineano molto e cioè la visione apocalittica della storia questo lo vediamo per esempio nel rotolo della guerra dove c'è una guerra non tra ebrei e romani ma tra i figli della luce e i figli delle teneve per esempio e questo ci porta a riconsiderare un luogo comune abbiamo sempre detto sentito che la liberazione attesa dagli ebrei era militare in realtà la letteratura di Qumran e anche negli altri documenti ci ricordano che molti avevano capito che non sarebbe bastato per il bene di Israele per quella promessa dell'era messianica rimuovere un'oppressione militare perché era necessario vincere il male e in realtà questo non è solo perché la Bibbia ebraica già lo aveva detto Daniele è uno dei primi libri a avere questa prospettiva molto spinta sugli ultimi tempi cioè facile alla portata di tutti ovviamente un messaggio che nella Bibbia troviamo più volte ma anche la storia aveva spinto in questa direzione pensiamo che durante la finestra di autonomia il periodo degli Asmonei dopo che i Maccabei li si liberano dall'oppressore se le uccide e quindi poi nasce questa nuova dinastia che viene chiamata degli Asmonei non c'è un periodo glorioso ma c'è un periodo di corruzione di colpi di scena di lotte fratricide quindi non basta liberare l'oppressore militare se il male non viene vinto non ci sarà mai la piena liberazione della nazione di Israele e questo ci porta a il momento quando viene persa quell'autonomia quando nell'epoca di Giulio Cesare del suo alleato Pompeo Magno che poi diventerà il suo rivale arriva il dominio romano sulla terra di Giuda e ovviamente appena parliamo di dominio romano per noi subito la mente va al Nuovo Testamento perché non si può neanche vedere una moneta con la scritta Cesare senza pensare a quel famoso brano date a Cesare quello che è di Cesare brano che comprende la frase datemi una moneta di chi è l'effigie è l'iscrizione e questo ci porta a considerare un punto dove le radici ebraiche ci aiutano a completare la predicazione che Gesù aveva fatto e che a volte sfugge cose dobbiamo dare a Cesare beh quello è ovvio la moneta perché ha la sua effigie ma date a Dio quello che è di Dio non è una frase che finisce lì è un messaggio se uno si ricorda la Torah si ricorda chi è fatto con l'effigie con l'immagine di Dio si rende conto che ciò che dobbiamo dare a Dio è molto chiaro non è che Gesù si è dimenticato di dirlo noi siamo immagini di Dio e tutto noi stessi è suo e deve essere dato a lui e questo delle radici ebraiche tornerà più volte nella lezione di oggi prima però quando parliamo di Nuovo Testamento e parliamo di Qumran uno inizia a pensare beh ci sono i rotoli antichi di Qumran e finora abbiamo scoperto che questi sono rotoli pre cristiani interessantissimi proprio perché ci danno una prospettiva sull'ebraismo esterna è separata dai conflitti che sono nati poi medioevo eccetera tra ebrei e cristiani ma allora esistono rotoli antichi del Nuovo Testamento qualcuno potrebbe avere un dubbio e quindi dobbiamo mettere subito a tacere questo dubbio esistono rotoli antichissimi scoperte importanti per quanto riguarda papiri del Nuovo Testamento quello che vediamo rappresentato è il famoso papiro 52 P52 con un brano dal Vangelo di Giovanni se non mi sbaglio è proprio quel brano quando Pilato dice a Gesù cos'è verità per il scettico perenne penso che Dio ha anche un senso dell'umor nel regalarci volete sapere se è stato trasmesso fedelmente quello che c'è nel Nuovo Testamento avete dubbi su cos'è la verità e proprio dirvi tutto il Vangelo di Giovanni sopravvive una parte di quel frammento questo è uno dei frammenti più antichi ma dobbiamo ricordare che per il Nuovo Testamento ci sono anche manoscritti antichissimi con libri interi e anche i manoscritti meno antichi anche quelli del Medioevo del Tardo Medioevo che sono copie in greco di un testo che loro nel monastero avevano ancora più antico in realtà sono molto utili per ricostruire la trasmissione del testo perché quello che trovi in un monastero in Grecia per dire o in Italia o nel Sinai non era confrontato cioè non è che nel Medioevo uno prendeva un cavallo una nave andava a vedere nell'altro monastero cosa c'è scritto quindi la coerenza la sovrapposizione di questi testi è una testimonianza anche questa all'antichità e alla fedeltà di trasmissione per non citare tante altre fonti come le citazioni dei padri della chiesa qui abbiamo pure un ostraca un coccio questo dal Met di New York dove c'è una parte di Nuovo Testamento scritto ai tempi antichi e se uno vuole approfondire questo come per Pumran abbiamo una banca dati digitale anche per il Nuovo Testamento c'è il csntm.org il centro per lo studio dei manoscritti del Nuovo Testamento dove si può sfogliare i 5.000 circa tra i manoscritti e i frammenti di manoscritti sparsi un po' per tutto il bacino mediterraneo e approfondire questi temi tra gli archivi più importanti dobbiamo citare il monastero di Santa Caterina nel Sinai dove grazie all'aridità e al fatto che questo monastero era antichissimo erano conservati i manoscritti veramente sorprendenti non dovevi andare a scavare nella terra bastava andare a scavare nella biblioteca per trovare cose di 1500 e passa anni fa e Ossirinco in Egitto dove è stato trovato una spazzatura roba che gli archeologi amano perché nella spazzatura trovi di tutto e hanno trovato letteralmente milioni di papiri penso che ci sono circa un milione di foglie ancora al British ancora da studiare tra cui c'erano anche parti del Nuovo Testamento c'erano in alcune di queste scoperte anche dei testi apocrifi del Nuovo Testamento quindi se prima abbiamo parlato della letteratura apocrifa della Bibbia ebraica esiste anche una letteratura apocrifa dopo la stesura dei Vangeli che possiamo dividere in due categorie ma subito riassumere con dei fattori comuni c'è il Vangelo secondo Pietro per esempio lo vedete qui nella foto in realtà è stato trovato solo qualche foglio poi c'erano testimonianze nei padri della Chiesa riguardo a questo Vangelo apocrifo e cosa dice rispetto ai Vangeli va molto di modo a parlare degli altri Vangeli o ai Vangeli nascosti e il cosiddetto Vangelo secondo Pietro abbiamo la parte che riguarda la passione la crocifissione di Gesù sottolinea in maniera sorprendente ma forse anche non visto che questo è un testo trovato in un contesto gentile non ebreo che i Romani non sono colpevoli per la crocifissione di Gesù tutta colpa degli ebrei Pilato si lava le mani non perché non c'è in maniera negativa ma si lava le mani purificandosi della faccenda e invece Erode non vuole i Romani non sono lì con i chiodi e col martello ma sono gli ebrei creando quindi anche un falso storico perché non era lecito per gli ebrei sotto il dominio romano eseguire una pena di messa a morte ancora di più per quanto riguarda le radici ebraiche tagliate ci colpisce il momento quando Gesù grida mia potenza mia potenza non c'era spazio non l'ho messo due volte ma nel testo è due volte mia potenza mia potenza mi hai lasciato dove nei Vangeli abbiamo mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato frase del Salmo 22 della Bibbia ebraica che porta quella continuità qui invece no il messaggio è tutt'altro infatti uno dei tanti motivi se non erano già evidenti per cui questo non è considerato un Vangelo attendibile è il fatto che sembra mostrare Gesù immune al dolore e quindi colpevole dell'eresia di docetismo oltre che di falso storico e di voler tagliare nettamente con l'Antico Testamento e accusare gli ebrei di qualcosa di cui in realtà tutta l'umanità è colpevole andando avanti dopo questo periodo si sviluppa siamo sempre parlando di testi trovati soprattutto in Egitto viene assimilato il messaggio del Nuovo Testamento in un movimento pagano pre-cristiano degli ignostici il movimento dell'ignosticismo e in questo caso è ancora più evidente la rottura con le radici ebraiche qui stiamo parlando sempre di testi che arrivano dopo il periodo di 70 dopo Cristo e poi Adriano e la rivolta di Bar Kokpa quando ormai la giudea e gli ebrei sono visti di malocchio da tutto il resto dell'impero e in questi testi il Dio creatore il Dio di Abramo Isacco e Giacobbe è rappresentato come il male stesso la personificazione del male perché lui ha creato la materia la materia è il male e solo lo spirito è bene quindi il paradosso totale il rovesciamento totale non Gesù che è mandato dal padre per l'amore per l'umanità ma Dio il Dio degli eserciti che storpiando il nome Yahweh Sevaot che abbiamo visto nel commentario ad Abba Kuk viene chiamato Idalbaot questa è la fusione e la storpiatura di questa pronuncia per questo è anche necessario un po' pronunciare noi siamo più abituati a sentire Dio degli eserciti o sentire Sabaot per Sevaot degli eserciti e il cattivo quindi più il contrario di tutto di così non si può questa è la religione gnostica responsabile poi dei tanti famosi vangeli gnostici come il vangelo di Giuda eccetera questo è l'inizio di una rottura che porterà poi nel medioevo ad altri rovesciamenti Mosè che in ebraico viene descritto come il suo volto dalla presenza di Dio trasformato con un termine Keren che ha un gioco di parole con la parola corna ma anche con i raggi di luce che emanano viene interpretato come uno che ha delle corna e poi da qui nasce il luogo comune che gli ebrei hanno le corna poi nel tempo siccome le corna vengono sempre più associate al diavolo che gli ebrei sono dei piccoli diavoli si vede subito come la rottura con le radici ebraiche che porta a dei paradossi anche a delle posizioni ridicole ma non dobbiamo crederci noi evangelici pentecostali immuni da tutto questo cioè anche noi abbiamo delle posizioni a volte un pochettino che farebbero ridere quando messa a confronto col messaggio originale pensiamo alla doppia porzione che Eliseo riceve da Elia questo è un punto che Michael Brown sottolinea spesso ne parliamo come se fosse una sorta di doppia energia doppio c più una roba da manga giapponese che da Nuovo Testamento raddoppiata la potenza 200% di potere in realtà Eliseo aveva chiesto quello che è normale nella Torah l'eredità del primo genito il doppio rispetto agli altri eredi non un 200% rispetto a tutto quello che hai tu io sono 200% più spirituale ma l'eredità la responsabilità del primo genito e questo atteggiamento di stacco completo dall'Antico Testamento lo vedi anche nei quadri nel Medioevo non ci si impegna neanche a dipingere l'ebraico correttamente cioè si scrivono dei caratteri che vagamente assomigliano all'ebraico o a volte vengono scritte lettere ma in un ordine caotico cosa che poi cambierà per esempio con Rembrandt che invece si impegna a ricopiare fedelmente anche se non legge quello che c'è scritto in una Bibbia ebraica molti neanche avevano visto una Bibbia ebraica iniziamo a tornare a Qumran abbiamo parlato di Gesa Vermesh e anche spero di averlo pronunciato bene credo sia ungherese come nome sinceramente non so qui abbiamo un fermo immagine da un suo video su YouTube dove parlando a una platea lui presenta il volume di cui era più fiero lui ha pubblicato le traduzioni in inglese di praticamente tutto quello che è disponibile nei rotoli di Qumran e nei rotoli del Mar Morto in varie edizioni man mano che venivano tradotti i singoli testi e sulla copertina il suo editore fa mettere una bellissima foto dei rotoli con il testo rovesciato sotto sopra quando ha aperto il lì dice mi ha preso un infarto è la fine della mia carriera come accademico quando i miei amici vedono questo i miei colleghi rideranno di me il paradosso forse peggiore è che molti neanche se ne sono accorti e sarebbe una cosa da poco tutti noi potremmo commettere questo errore se non che la casa editrice era una casa editrice di tutto rispetto che faceva proprio questo per capire quanto anche tra studiosi la conoscenza del mondo ebraico era considerata di poco conto il suo editore quando lui si è lamentato ha detto ma sinceramente artisticamente è più bella così comunque Pumbran ha cambiato molto l'atteggiamento per quanto riguarda il rapporto tra cristiani ed ebrei e il nuovo testamento ha portato anche alla pubblicazione di un volume the Jewish Annotated New Testament tradotto in italiano come il Vangelo letto dagli ebrei dove vari studiosi ebrei non che non considerano Gesù il Messia Dio analizzano il nuovo testamento riscoprendo un'ebraicità che non si aspettavano di trovare tra i testi che analizzano per esempio c'è l'epistola ebrei spesso letta come un libro che parlava di una come è che l'abbiamo parlato l'abbiamo definita nelle lezioni con Mike Brown teologia della sostituzione perché nell'epistola gli ebrei Gesù è superiore a Mosè è superiore ai profeti al sacerdozio come se poi molti leggeranno allora prendiamo buttiamo tutta sta roba che non serve più che abbiamo Gesù e in realtà quello che c'è nell'epistola ebrei è molto ebraico è la continuità di Geremia 31 31 come abbiamo già detto e anche nei rotoli di Qumran senti parlare di un nuovo patto letto in quell'ottica l'epistola ebrei non sta dicendo Dio ha finito con quel patto lì e ora fa una cosa completamente nuova e scollegata da quello che è venuto prima ma è qualche cosa di estremamente ebraico la setta di Qumran si aspettava un nuovo patto un momento quando il rapporto con Dio Dio e gli ebrei sarebbe stato più saldo più forte perché avrebbe superato non le mancanze di Dio e del suo patto ma del popolo che non era riuscito a rispettare i termini del patto e questo ci porta ovviamente di nuovo a Geremia abbiamo già commentato i frammenti presenti a Qumran ora vogliamo per un attimo leggere quello che c'è scritto riguardo a quel nuovo patto in quei giorni non si dirà più Geremia 31 stiamo parlando di Geremia 31 i padri hanno mangiato uva, cerba e i denti dei figli si sono allegati qui è molto simile ad Ezechiele come testo e sono contemporanei e il messaggio è contemporaneo ma ognuno morirà per la propria iniquità chiunque mangerà l'uva, cerba avrà i denti allegati ecco i giorni vengono dice il signore in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto il patto che essi violarono sebbene io fossi il loro signore dice il signore ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni dice il signore io metterò la mia legge nell'intimo loro la scriverò sul loro cuore io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo nessuno istruirà più il suo compagno Torah è istruzione insegnamento istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il signore poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice il signore perché come farà come scriverà sul cuore come compierà questa nuova nuova opera nuova potenzialità del patto con il suo popolo perché io perdonerò la loro iniquità e questo è il modo e questo è il gancio è così che Dio trasformerà e darà la svolta alla situazione non mi ricorderò del loro peccato in questo non istruirà più già puoi vedere un Paolo che parla no la legge non serve ma non perché è da buttare ma perché è così spontaneo una volta che sei innamorato di Dio che non è necessario che qualcuno ti dica di amarlo perché già lo ami questo si aspettavano un nuovo patto e torniamo quindi a Qumran a parlare di questo nuovo patto e prima di andare a parlare di Rotoli ci fermiamo di nuovo su l'area di Qumran la posizione geografica perché quello che c'è sotto gli occhi portava subito e dovrebbe portare anche noi subito a contemplare il primo patto dall'altra parte del Marrot morto c'era il luogo dove il popolo uscito dall'Egitto si ferma per sentire una seconda volta la legge di quel patto che Dio ha stabilito Deuteronomios Deuterosecondo Nomos legge se ci siamo mai chiesti perché si chiama Deuteronomio il momento quando Mosè porta il popolo fino a il punto di ingresso per la terra promessa e una seconda volta li legge questi sono i termini del patto poi lui sale sul monte Nebo che è quel monte che vediamo è lì che lui muore e il popolo poi dovrà attraversare il Giordano che si trova proprio lì per entrare in questo patto ed è al Giordano che Gesù poi va per essere battezzato e dove ancora oggi andiamo noi come membri del nuovo patto a volte nel Giordano a volte cioè io in una piscina sotto una tenda per celebrare l'ingresso in questo nuovo patto citando tante volte i brani del vecchio patto e questo ci porta quindi a qualche cosa che era continuamente sotto l'occhio della comunità dei cumbraniti e quando uno è a cumbran è proprio immerso in tutta questa situazione c'è quindi non solo grotte con rotoli ma c'è proprio una comunità che vive lì e il modo di vivere il modo di parlare il modo di pensare di questa comunità ovviamente è oggetto di grande interesse c'è un'ultima cosa geografica che però dobbiamo notare qui abbiamo la valle del Giordano guardiamo verso nord dove si trova Gerico e la strada che poi da Gerico porta verso Gerusalemme passando per questi monti c'è il deserto della Giudea dove Gesù parla sei 40 giorni nel deserto ma ci sono questi monti quando Gesù dice allora parlando del tempo della distruzione del tempio coloro che sono in Giudea fuggano ai monti questi sono i monti dove tutti fuggono Davide fuggì per nascondersi da Saola in Gedi un po' più a sud in questi monti quando c'è la guerra dei settanta è qui che fuggono e si nascondono cristiani esseni farisei chiunque scappa e si nasconde in questi monti leggere quindi quel brano in Matteo 24 senza pensare al contesto geografico ci porta a dire ma di cosa sta parlando Gesù verso quali monti dovremmo fuggire dobbiamo considerare prima il suo significato sul posto nel tempo prima di pensare ad altri possibili significati di un testo di un brano è qui che si attende la grande apocalisse la grande guerra tra i figli della luce i figli delle tenebre questo rotolo che subito ha fatto pensare a quanto sono simili i cumbraniti ai cristiani parliamo allora un pochettino di questa comunità di cumbran e di cosa ci dice del primo secolo del modo di vivere poi delle credenze delle convinzioni il sito di cumbran lo vediamo qui è alle spalle quelle grotte nei monti dove nascondevano i rotoli e con l'erosione si vede diciamo quella scena che normalmente vediamo nelle foto anche di queste sessioni di questo corso alcune grotte che oggi sono del tutto inaccessibili e in realtà in passato sarebbero stati più facili da raggiungere è una zona molto arida e quindi ci sono cisterne come questa cisterna per l'acqua e si può vedere come venivano intonacate le pareti per conservare intrappolare l'acqua acqua che serviva per vivere ma soprattutto per il rituale di immersione di cui poi parleremo c'era un'area con tantissime come si chiama l'osso dei datteri perché era un'area di produzione del miele di datteri questa non era una comunità che viveva di pigrizia si rimboccavano le mani e lavoravano c'era un'etica di lavoro che ci ricorda anche Paolo con la sua etica di lavoro oltre che questa considerazione che il miele tanto presente in Giudea non è solo miele di api ma anche miele di datteri e lì ne producevano veramente tanto avevano bisogno di questi soldi perché importavano beni c'era uno scambio commerciale tra i cumbraniti e il resto dei giudei anche se erano distaccati dal punto di vista ideologico mi ha colpito qui la macina oltre che assomiglia a quelle di Pompei quindi ci parla dell'epoca perché sembra essere fatta di pietra lavica cosa che non trovi qui ma trovi in Galilea in Galilea c'è pietra lavica e quindi ti fa pensare anche al movimento di merci alla diciamo la vitalità di questa epoca e ovviamente parlando di grano al pane e al primo o meglio secondo perché abbiamo parlato di figli della luce figli delle tenebre di quei tanti punti che assomigliano al Nuovo Testamento a cumbran infatti c'erano anfore cocci e c'era un'area riservata al pasto comune che era uno dei momenti più importanti per i membri di questa setta qui rapidamente ci stiamo spostando quest'area con la tettoia parzialmente ricostruita vicino a una zona per i bagni e l'area dove si faceva questo pasto comune dove si rompeva il pane tutti insieme in un rituale sacro non un semplice mangiare insieme è il rotolo della comunità che dichiarava mangeranno insieme benediranno insieme insieme prenderanno consiglio c'è questo senso di gruppo di corpo di lavorare insieme ma soprattutto di questo pasto che noi conosciamo nel Nuovo Testamento il banchetto dell'agnello il pasto ma l'abbiamo preso dai cumbraniti in realtà no viene da Isaia Isaia 25 il signore degli eserciti frase che abbiamo già visto preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succolenti un convito di vini vecchi di cibi pieni di midollo di vini vecchi raffinati in quale contesto? nel contesto in cui distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni annienterà per sempre la morte in questo contesto dell'annientamento della morte della vittoria il trionfo sul dardo della morte che il signore offre un banchetto per tutti un passo quindi che loro attendevano con questa visione apocalittica della storia anche particolare l'idea di un velo qui è il velo della morte perché noi tendiamo a pensare agli ebrei coperti da un velo che non capiscono però qui c'è un velo su tutte le nazioni e Dio quello che sta facendo lo sta facendo per tutti Isaia 25 non solo rompevano il pane ma condividevano i loro beni questo è diverso da altri gruppi e gli altri movimenti ebraici dell'epoca è molto simile però alla prima chiesa a Gerusalemme solo a Gerusalemme altrove c'è sempre stato l'atteggiamento chi ha tanto non abbia troppo chi ha poco non abbia troppo poco di condividere ma a Gerusalemme c'è stato il momento particolare quando si vendevano i terreni per dare alla comunità condividendo quindi pienamente una sorta di comunismo anteliteram che però deve farci riflettere non era regola per tutti i cristiani di tutti i tempi qualcuno ha notato una volta che chi nel stiamo parlando 38 39 40 dopo Cristo ha venduto le sue terre a Gerusalemme per dare una spinta in più a questo movimento nascente per aiutare questa comunità di cui era entrato a far parte nel 70 non ha perso le proprie terre perché le aveva già investite in qualcosa che sarebbe durato poi nei secoli a differenza di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme che quando sono arrivati i romani si sono presi tutti c'è anche una nota un pochettino particolare se si considera il fatto che quelle terre e quei beni comunque erano persi e quindi uno può immaginare un'anania e saffira se fossero rimasti in vita che rimangono proprietari di un pugno di sabbia quando i romani li rimuovono con la forza dalle loro terre i cumraniti si aspettano anche un nuovo israele sono divisi in dodici gruppi con dodici capi per ricreare l'idea delle dodici tribù e si credono un nuovo sacerdozio tutte le immagini che abbiamo visto finora erano un po' marrone e varie tonalità di marrone perché sono reperti archeologici in realtà questa era una comunità viva quindi è bello anche pensare alla vitalità delle dodici pietre che rappresentano le dodici tribù di israele ma è una cosa che c'è in comune col cristianesimo non solo ci sono dodici discepoli ma in apocalissi 144.000 sono divisi in dodici gruppi e questo ci porta poi a una domanda che rimane aperta ma è abbastanza ormai si è arrivata a una certa conclusione la setta di cumran questo sito era un luogo d'incontro per gli esseni di cui avevamo già notizie da filone Giuseppe Flavio e Clinio sembra di sì e più sono d'accordo su questo punto ma sembra che tra gli esseni c'erano atteggiamenti diversi e probabilmente cumra rappresentava un po' la punta di una piramide come se fossero scale di santità quindi quelli che per esempio erano sposati avrebbero vissuto vicino alla comunità ma l'ingresso che era un percorso di tre anni probabilmente arrivava man mano che uno era pure avanzato di età e ormai si poteva dedicare pienamente alla loro visione spirituale e sempre di meno alla vita di famiglia e tutto il resto questo è particolare anche perché potrebbe spiegare che quei rotoli non rappresentano solo qualche cosa scritto sul posto ma anche testi che altri avrebbero portato perché gli Esseni avevano una regola che dovevano incontrarsi ogni anno da tutta Israele raccogliersi come si fa per le grandi feste a Gerusalemme e quindi avrebbero portato con sé i propri rotoli le proprie famiglie si sarebbero raccolti vicino al sito di Qumran per festeggiare i momenti importanti e quindi forse abbiamo anche testimonianze di cose che vengono da altre parti ma questa è una questione che rimane un po' aperta l'ipotesi che tutti si raccoglievano a Qumran viene avanzata ora quindi ancora le prove iniziano a esserci cioè ci sarebbe il posto dove potevano prendere da mangiare mettere i loro asini per dargli da bere sembra che tutto questo era possibile quindi si raccoglievano un po' da tutta Giudea questo perché è interessante perché vuol dire che anche se la parte il nucleo di Qumran era isolato dalla Giudea il loro modo di parlare il loro modo di pensare è del tutto naturale che fosse conosciuto da altri e altri interagivano con questi modi di vedere modi di vedere per esempio per quanto riguarda il battesimo a Qumran ci sono tantissimi mikveh bagni rituali è particolare perché questo bagno rituale è vicino alla zona del pasto ma non molto lontano da un grande specchio d'acqua che è il mar morto nella prospettiva cristiana se uno usa questo bagno per il battesimo non ha senso costruirsi 4-5 mikveh per una piccola comunità cioè andiamo e battezziamoci nel giordano ma loro dovevano battezzarsi anche due volte al giorno quindi è diverso capite simile ma diverso dalla prospettiva cristiana sull'immersione rituale quello che è simile però è interessante perché non è che era solo un rito cioè devo lavarmi prima di fare questo pasto sacro nella loro regola qui traduzione di Gesa Vermesh poi ritradotta male dal sottoscritto gli uomini di ingiustizia non entreranno nell'acqua per partecipare al puro pasto degli uomini di santità poiché non saranno lavati se non si saranno ravveduti dalla loro iniquità poiché tutti coloro che trasgrediscono la sua parola sono impuri cioè c'è questo senso che non è solo il lavaggio esteriore ma qualcosa dentro deve cambiare cioè c'era questa consapevolezza tra i cumbraniti come c'era un'altra nota interessante che è molto evidenziata lì nel sito archeologico tante citazioni dai testi dei roteri di cumbran per lavarmi col tuo santo spirito e per lo spirito della santità che lo unisce alla verità viene purificato dei suoi peccati questo parlare di lavaggio di bagno di santo spirito è molto familiare per noi cristiani e viene di chiedersi ma da dove hanno tirato fuori questi concetti o noi li abbiamo ereditati da loro in realtà non è così ma andiamo per ordine allora abbiamo questa comunità che pratica la condivisione dei beni un pasto speciale l'immersione rituale si definiscono seguaci della via hanno una prospettiva escatologica si credono una nuova israele divisa in dodici tribù e vogliono formare un nuovo tempio e attendono l'arrivo dei messia perché ne aspettano due se non tre come ci ha spiegato anche Agostino Costantino quindi è questo il cristianesimo delle origini molti inizialmente dicevano o pensavano ipotizzavano e ha portato a approfondire perché l'ebraicità del cristianesimo improvvisamente era indiscutibile sono troppo simili questi due mondi e ha portato studiosi come Gesa Vermesh per esempio a pubblicare tanti libri su Gesù l'ebreo Gesù nel mondo ebraico meditare su queste somiglianze approfondendo però vedendo per esempio che non parlano di se stessi come figli della luce sempre ma occasionalmente in qualche parte c'era questa situazione ma si definivano diversamente e altre differenze che iniziavano a emergere approfondendo lo studio Gesa Vermesh arriva a questa conclusione Gesù nel mondo giudaico pagina 224 in ultima analisi sono convinto che la fonte di queste somiglianze sia riconducibile al contesto religioso e culturale dell'ebraismo palestinese cioè dell'ebraismo praticato in quella regione geografica in quell'epoca geografica e non ha un'influenza diretta di Cumbra sul cristianesimo perché perché come abbiamo visto con Isaia con l'attesa del banchetto del Signore del banchetto di Dio collegato con la vittoria escatologica sulla morte tutto quello che c'è in comune in realtà deriva da brani della Bibbia ebraica quasi con pochissime eccezioni e poi ci sono delle differenze lampanti che segnano che non c'è un'eredità diretta ma un mondo che i due condividono consideriamo per esempio battesimo e spirito santo da dove viene? da Ezechiele 36 vi aspergerò di acqua pure sarete puri Ezechiele 36 25 Ezechiele 36 27 metterò dentro di voi il mio spirito quindi era un concetto che nel contemplare la Bibbia avevano visto tutti sia cumraniti sia cristiani meno evidente magari nella letteratura farisaica e poi quindi talmudica ma è lì è presente vediamo qualcuna delle differenze nel contesto di una cena la cena per eccellenza il cenacolo Gesù sta lavando i piedi ai suoi discepoli Pietro gli disse non mi laverai mai i piedi Gesù gli rispose se non ti lavo non hai alcuna parte con me e Simon Pietro signore non soltanto i piedi ma anche le mani al capo voglio l'immersione completa da Mikvè Gesù gli disse chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi è tutto quanto puro e voi siete puri ma non tutti poi citando Giuda che lo deve tradire questo è molto diverso dai cumraniti che due volte devono fare l'immersione totale in una giornata no quella è una volta l'immersione il lavaggio è una cosa un'unica volta poi hai solo bisogno di aver lavato i piedi Pietro cioè il messaggio visto nell'ottica dei cumraniti è subito evidente che c'è un contrasto però porta a pensare di nuovo a queste immersione rituale a questi Mikvè andiamo a vedere uno di questi che è la piscina di Betesda una piscina divisa in due parti Giovanni la descrive come 25 portici perché ci sono quattro nei perimetri e poi una diga centrale con un portico e questo corrisponde ai requisiti di un Mikvè che doveva raccogliere in uno zerre l'acqua piovana l'acqua naturale così che poi uno poteva lavarsi in acqua viva e questo non è specificato nell'Antico Testamento era frutto della tradizione ebraica che si era sviluppata in quel periodo tradizione che condividono a Gerusalemme dove dividono i loro Mikvè in due parti e anche a Qumran è particolare però pensare che Gesù compie i suoi miracoli presso dei bagni che portano al messaggio della purificazione a Betesda al nord del tempio e a Siloe la piscina di Siloe a sud non erano semplicemente delle piscine pare era proprio un luogo dove uno andava per purificarsi per poter accedere al tempio e in contesto di purificazione vediamo anche guarigione e questo quando uno è sul posto alla vasca di Betesda è difficile visualizzarlo perché si vedono i gradini in basso questi gradini che servivano appunto non per mettere una bacinella e prendere un po' d'acqua ma proprio per immergersi e la diga centrale però poi con tante costruzioni sopra e quindi non è facile vedere queste due immense vasche uno per raccogliere l'acqua piovane e l'altro per la pratica di immersione tutto questo ci riporta a un brano sempre della Bibbia ebraica in Geremia che forse può parlarci in tanti modi diversi di cose che abbiamo visto nel Nuovo Testamento senza considerare le radici ebraiche di quello che stiamo sentendo Geremia 17 speranza di Israele Signore quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere pensate a quel brano misterioso quando Gesù di fronte alla donna adultera si siede e scrive col dito nella polvere ci siamo sempre chiesti cosa sta facendo e perché Giovanni ci tiene a dirci che è stato fatto questo perché hanno abbandonato il Signore la sorgente delle acque vive pensiamo a Gesù con la Samaritana chi chiede a me schiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno sta dichiarando quindi di essere il Signore perché sta dichiarando di essere la sorgente di acqua viva e Geremia ci dice che quella sorgente è il Signore guariscimi Signore quindi questo contesto di purificazione con guarigione esserò guarito salvami e sarò salvo poiché tu sei la mia lode e continuando questo brano parlerà anche del rispetto del sabato questo mi porta a una considerazione che credo interessante ho più sempre più difficoltà a vedere Gesù che guarisce di sabato come uno che vuole dare fastidio ai religiosi vuole indispettirli è vero che Gesù li contrasta e li resiste con forza dove sbagliano dove sono nell'errore ma in realtà il suo guarire in giorno di sabato è ricordare a tutti cosa significa veramente il sabato la ristorazione il ritorno a come devono stare le cose e quindi non è un voglio darvi fastidio ma voglio che capite il messaggio cos'è veramente il sabato quando lui pratica la guarigione del paralitico vicino a un mikveh di sabato sta prendendo tutti i fili che loro dovrebbero conoscere dalla bibbia ebraica li sta mettendo tutti insieme dicendo io sono quello che porta a compimento tutto questo bene vediamo le ultime considerazioni e poi passiamo se ci sono delle domande i cumbraniti hanno un atteggiamento curioso riguardo al matrimonio sembrano prediligere celibato mentre nell'ebraismo rabbinico erede dell'ebraismo farisaico c'è quasi un'insistenza sul matrimonio quasi che il celibato per un ebreo non fosse una possibilità e per molti sembrava che il celibato era una cosa nata nel cristianesimo in realtà quando parlo Paolo parla possiamo vederlo che quando lui parla di matrimonio i suoi vantaggi celibato i suoi vantaggi sta tenendo l'equilibrio tra due mondi i farisei che dicono no se Adamo ed Evano dovevano moltiplicarsi allora il matrimonio è un obbligo una legge di Dio e i cumbraniti che stanno dicendo no se uno è celibe può dedicarsi alle cose spirituali ed è questo il massimo che si può fare per Dio e vedi Paolo che invece dice no c'è valore da questa parte ma non voglio sbilanciarmi troppo di là perché dovete ricordare anche che c'è valore dall'altra parte non sto prendendo la posizione parisaica o la posizione degli esseni ora che conosciamo un po' di più la posizione degli esseni diventa più evidente questo punto l'attesa di un nuovo patto non è una cosa che nasce o viene inventata dai cristiani gentili è una cosa prettamente ebraica puramente coerente con il messaggio della Bibbia ebraica il banchetto messianico la cena del signore e la promessa della cena con lo sposo il banchetto di nozze con lo sposo lo riscopriamo in Isaia 25 passando per Qumran forse potevamo scoprirlo senza passare per Qumran ma notare quanto i Qumraniti insistono su questo pasto sacro speciale ci porta a dire ma da dov'è che questo gruppo ebreo che non ha nulla a che vedere con i cristiani ha un'idea così cristiana lo scopriamo ritornando alla Bibbia ebraica e quello è il nesso che li accomuna l'importanza dell'immersione ci porta a vedere quanto è simile ma diverso il messaggio è importantissimo è interessante che in Israele non solo gli Esseni perché i Mikveh sono stati trovati un po' dappertutto e la vasca di Bethesda e Silo sembrano essere un andare oltre perché i Mikveh generalmente erano piccoli perché uno doveva togliersi completamente i vestiti per immergersi e qui sembra che invece avevano un'area probabilmente solo per uomini dove tanti tanti potevano purificarsi perché c'era improvvisamente questo senso di abbiamo bisogno di essere purificati che scopriamo anche nei Vangeli tutti accorrevano a Giovanni Battista e volevano essere battezzati da lui perché c'era questo senso siamo sporchi abbiamo bisogno di essere purificati e la natura del compito messianico questo l'abbiamo citato più parlando di letteratura enotica di questa attesa non solo di qualcuno che avrebbe riparato il danno del peccato degli uomini contro Dio ma anche lottato le forze demoniache che invece non sempre abbiamo chiaro anche perché secondo me Dio volutamente non ci porta l'attenzione sul mondo di angeli e demoni perché poi ci fissiamo con cose che magari non meritano la nostra attenzione ma fa parte del compito messianico vincere il male in tutte le sue forme e notiamo questo nella letteratura comranica e da lì che loro capiscono che quello che il Messia farà non sarà solo combattere un esercito di uomini ma anche un esercito di demoni e l'identità dell'Israele messianica è anche particolare tutti riconoscono che c'è qualcosa che non va con l'Israele attuale ai loro tempi Dio dovrà cambiare la nazione deve esserci una nuova Israele solo che per i cumbraniti questa nuova Israele era solo una piccola parte dell'Israele esistente nel cristianesimo delle origini è tutti coloro il residuo di Israele che seguono fedelmente il Dio di Abramo Isacco e di Giacobbe accogliendo il suo Messia Gesù Cristo e tutte le nazioni che Dio sempre nella Bibbia ebraica aveva detto di voler conquistare a sé poi perse le radici ebraiche invece diventa tutto un altro messaggio no Dio non ha nessun interesse per Israele sono solo i gentili arriviamo ai paradossi di cui abbiamo parlato all'inizio di questa sessione qui più per conoscenza generale cito alcuni dei studiosi in collegamento ai vari reperti per capire da dove ho derivato un po' le informazioni Von Valde con l'idea del Mikve Vasca di Bethesda Boccacini la letteratura enochica Heiser il 11Q Melchizedek è uno che non ho citato 4Q 521 in cui Jay Vanderkam nota una somiglianza tra Luca 7 l'ambasciata di Giovanni Battista Gesù che risponde sei tu che dobbiamo che aspettavamo o dobbiamo aspettarne un altro Gesù gli risponde cosa gli risponde questi sono i segni no ci sono guarigioni i ciechi vedono i storpi camminano poi parla dei morti che risorgono e la buona notizia ai poveri annunciata ai poveri questo è Luca 7 in 4Q 521 c'è un commento a quello che Dio farà quando arriva l'era messianica in cui tutti questi elementi vengono da Isaia sostanzialmente ma è curioso il fatto che si parla di ciechi che vedono poi morti che risorgono e poi la buona notizia annunciata ai poveri e i morti che risorgono non si trova in Isaia quindi questa somiglianza a questa sequenza in comune è di nuovo una di quelle cose dove dici sembra che stanno parlando un linguaggio comune per questo è interessante sapere che i cumbraniti erano in contatto con gli altri ebrei e quindi si può immaginare una discussione un dibattito sì però quando il messia avverrà cosa farà questo questo e questo e quindi non è poi tanto strano che Gesù dice beh volete sapere se dovete aspettarne un altro questo questo e questo sono avvenuti quello che si aspettava da 4Q521 che è un testo piuttosto antico sta avvenendo materialmente e quindi comprendiamo la somiglianza con Luca 7 e oltre a questo ci sarebbe tantissimo però voglio sottolineare due ultimi punti per ricordarci quanto sono diversi cumbraniti dai cristiani uno si isolavano da tutti non avevano l'intenzione di evangelizzare questo è proprio lo specchio contrario di quello che è il cristianesimo luce che deve arrivare a tutti e due non contemplano l'inclusione dei goyim delle nazioni di nuovo esattamente il contrario del cristianesimo quindi si condiviscono un mondo comune conoscerli ci riporta a rileggere la bibbia ebraica con occhi nuovi e notare tante cose in più ma no non sono i cumbraniti i primi cristiani sono testimonianze di quanto il cristianesimo è un movimento fondamentalmente ebraico che ha una continuità con le promesse della bibbia ebraica ok ho scaricato le pile quindi possiamo passare a commenti osservazioni beh grazie Caleb anche questa sera ci hai fatto fare un bel viaggio c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda vediamo se vedo tante mani alzate intanto Giacomo ci ha salutato Gesù ti benedica Caleb ma doveva andare anche commenti contributi cioè questo è il bello dove tutti possiamo aggiungere o ipotizzare o chiedere io Caleb ricordo che già quando eravamo a cumbran mi chiedevo dove prendessero l'acqua perché deve essere stato un gran lavoro riuscire ad avere l'acqua per tutte quelle vasche in un posto così dove l'acqua non c'è e piove poco siamo nel deserto praticamente immagino che sia stato un gran lavoro poi mi ricordo che qualcuno disse che c'era un sistema di canali ti ricordi qualcosa del genere? sì 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 forse non in questa presentazione ma avevo un video con dove si si seguiva proprio il il canale o lo riprendiamo la prossima volta o potete vederlo in uno dei video precedenti dalla montagna c'è tutta quella che sembra una strada che però non serviva per camminare ci sono pietre alte da tutte e due i lati e praticamente quando pioveva questo raccoglieva l'acqua dalle montagne vediamo quando scorre giù tutta l'acqua dalle montagne quando lì pioveva improvvisamente c'era un'abbondanza di acqua che dice non perdiamola non perdiamola e veniva incalanate in queste cisterne appunto cisterne mikve si capisce l'importanza dei mikve proprio perché sacrificavano spazio per conservare acqua pur di creare questi gradini per potersi immergere quindi si capisce come era priorità assoluta per loro questa immersione però hanno tantissime di queste cisterne appena pioveva raccoglievano e poi c'erano delle sorgenti naturali ci sono un poco a sud penso distanza tipo di due chilometri c'era una sorgente ce ne sono alcune che ora non sono più attive notano proprio la geologia della zona che scorreva acqua lì prima e il livello dell'acqua era molto più basso quindi era già poco allora era già arido ma ora vediamo peggio e quindi quasi inimmaginabile sopravvivere in un contesto del genere è possibile che c'era anche qualche altra sorgente più vicina dove potevano andare a tingere ma sicuramente c'era un impegno per andare raccogliere l'acqua e appena poi invece arrivava con la pioggia tutto quello che potevano lo raccoglievano in cisterne in questo erano bravissimi anche erode il grande se avete seguito Alberto Angela quando ha fatto degli studi sulla RAI parla proprio delle cisterne che a Massada ci sono sono una roba impressionante cose grandissime e in realtà una cosa piccola quella che troviamo a Kumban la domanda se questo è un punto di raccolta per gli Esseni quando iniziano ad arrivare non solo i 150 200 che vivono lì poi negli anni ci sono nuovi appunto ai circa mille tombe però in un dato momento ci sono 150 persone quando arrivano invece qualche migliaio da tutta Israele riuscivano a fornire acqua e mangiare per tutti per questi tre giorni sembra di sì ma probabilmente erano alcuni parcheggiati a Gerico alcuni verso una delle oasi più a sud e poi uno due ore di camminata si poteva arrivare al punto di raccolta grazie Aleba anch'io ti volevo chiedere una cosa dimmi Alessandro si sente? sì sì ah ok ok allora praticamente quando tu all'inizio ma forse l'hai anche detto la scorsa volta che praticamente Daniele rimanda il libro di Daniele rimanda a un tipo di letteratura apocalittica allora dagli studi che hai fatto Giovanni Battista aveva un tipo di predicazione apocalittica e Gesù che diciamo era molto vicino a Giovanni per una serie di almeno nella parte iniziale del suo ministerio con il fatto che sottolineava più volte la venuta di un regno quindi ha parlato molto spesso del regno Gesù anche lui può essere definito come o ha qualcosa di apocalittico parlo di Gesù cioè è venuto fuori qualcosa durante la preparazione di questi studi che hai fatto riguardo a questo sì in realtà sono cose che già sappiamo però può essere utile magari inquadrare cosa si intende quando parlano di letteratura apocalittica letteratura apocalittica ha alcune caratteristiche che si riscontrano facilmente degli angeli che mediano il messaggio quindi un incontro con gli angeli un'enfasi sulla sfera sovrannaturale la sfera angelica linguaggio metaforico simbolico quindi rappresentare per esempio le dieci corna il piccolo corno che spiazza le altre corna una bestia che sale alla forma di un leone o le ali di un'aquila questo linguaggio metaforico che molto richiama gli animali quindi angeli enfasi su angeli che comunicano che rivelano un messaggio enfasi sul sovrannaturale su questa lotta tra il bene e il male tra gli angeli e i demoni tra Dio e colui che si oppone alla volontà di Dio sia angeli che uomini però proprio in senso di bene contro il male e poi il linguaggio metaforico che richiama gli animali e poi questa enfasi su una grande lotta finale una grande battaglia in cui il bene vincerà e trionferà sul male questo dobbiamo solo fermarci per un attimo e considerare Giovanni parla di ravvedetevi perché perché sta per arrivare la punizione ora di Giovanni abbiamo pochissimo del suo messaggio per ricostruire aveva un linguaggio metaforico razza di vipera quello sappiamo non abbiamo altro quindi forse un po' una forzatura perché di Giovanni non abbiamo letteratura di Giovanni il Battista abbiamo alcune frasi però c'è questo atteggiamento a spingere alla grande lotta tra Dio e il diavolo che sta avvenendo lotta per intenderci per il diavolo perché Dio non fa nessuno sforzo nella lotta però gli angeli gli uomini in questa battaglia sono molto coinvolti in Gesù si parla continuamente della sconfitta dei demoni non mandarci ora nell'abisso Gesù caccia i demoni Gesù parla con le parabole con un linguaggio metaforico simbolico quindi sì c'è in questo senso una una somiglianza però se dobbiamo pensare proprio a letteratura apocalittica non considereresti il Vangelo di Matteo o il Vangelo di Marco letteratura apocalittica sì c'è l'angelo che rivela annuncia l'avvenuta di Cristo però per il resto è proprio storia persone e fatti Daniele è molto più visioni rivelazioni e quindi l'apocalisse di Giovanni il Battista e questo per noi è interessante perché conoscere proprio questo modo di parlare a cui loro erano abituati ci permette di fare delle ipotesi su come interpretare una visione pensando a il messaggio metaforico piuttosto che fissarsi subito sull'idea delle ali dell'aquila ma proprio cosa può rappresentare se c'è spesso il leone rappresenta questo spesso l'orso rappresenta quello allora fili fuori degli schemi fuori di questo è più un modo di esprimersi che un movimento io esiterei a pensare che c'è proprio Giovanni e Gesù sono un movimento sembra che invece in questa epoca tutti i movimenti i cumbraniti che sono un altro movimento hanno questo stesso modo di esprimersi perché stanno affrontando la stessa domanda è chiaro che Dio deve agire è chiaro che il male ora è molto presente peggio che mai e Dio ci ha promesso che agirà quindi quando è che avverrà la grande battaglia il grande scontro nella Bibbia io non vedo letteratura ma vedo proprio Dio che esprime chiaramente i concetti con un linguaggio comprensibile in Enoch e in altri invece vedi un tentativo di emulare questo modo di parlare e quindi trovi qualcosa di simile questa però è un'analisi povera mia ovviamente se parli con un Mike Brown da parte evangelica o un Gabriele Boccaccini ti parlano proprio con le nozioni di uno studioso e un po' di precisione in più però grandi linee ho visto no no però grazie mi è stato molto utile di capire le praticamente gli elementi che definiscono questa letteratura questo tipo di letteratura quindi mi è stato utile grazie grazie a te per la domanda è sempre bello quando abbiamo domande cose perché poi magari qualcosa che non non sarebbe stato detto invece abbiamo l'occasione di sentirlo considerarlo bene e vi introduco un po' i concetti che saranno quelli della prossima sessione mentre aspetto se qualcun altro ha qualcosa che vuole aggiungere allora la prossima volta abbiamo parlato di Antico Testamento e profezie messianiche di periodo intertestamentale letteratura extra biblica ora di Nuovo Testamento ovviamente usando Qumran sempre come un trampolino di lancio ci allontaniamo e torniamo allontaniamo e torniamo la prossima volta vogliamo parlare più di eventi più recenti Qumran è stato scoperto in un momento molto particolare per la nascita di Israele e quindi commentare un pochettino più la storia moderna e quello che significa per Qumran quello che può significare anche per noi ma essendo la quarta sessione anche ripescare un po' cose che potrebbero essere sfuggite nelle precedenti lezioni questo sarà l'obiettivo della quarta e ultima sessione di speciale Qumran e poi ci saranno le altre lezioni della stagione Dalet c'è ancora qualcuno? Mirta lascia a te la chiusura allora sembrerebbe che no non ci sia più nessuno che abbia delle domande ma io sono convinta che se risentiamo la lezione anche di questa sera poi le domande ci vengono in mente magari la prossima volta quando in apertura chiediamo se qualcuno ha delle domande da fare per questa per questa lezione di questa sera avremo molto più tempo perché in realtà sono poche cose per la prossima volta potrebbe esserci tanto ma ci limiteremo solo un paio di considerazioni poi c'è tanto quindi quindi possiamo prepariamoci tante domande da fare a Caleb vedrete che se riascoltate le registrazioni durante la settimana vedrete che le domande poi arrivano perché sono state lezioni veramente molto ricche molto profonde qualche dubbio ci verrà io qualche dubbio ce l'ho ma te lo dico la prossima volta ok va bene allora niente se non ci sono altre novità se Alessandro non ha nessuna pubblicità da mandare possiamo anche salutarci se non ci sono